Suzuki Ignis unisce forme inconfondibili ad un'eccellente funzionalità, rifacendosi alla tradizione e al DNA di Suzuki, racchiudendo al suo interno un abitacolo molto accogliente in rapporto ai soli 370 cm di lunghezza. A bordo, il suo distintivo quadro strumenti si combina per dare all'ambiente interno un look caratteristico, reso ancora più unico dai particolari interni arancione e titanium. L'adozione della nuova piattaforma Suzuki ha permesso di ridurre lo spazio occupato dal motore e massimizzare invece quello per passeggeri e bagagli, offrendo un abitacolo esteso e confortevole con ampio spazio per guidatore e passeggeri. Il bagagliaio ha una capienza di 267 litri, per la versione 4x4 All Grip ed è reso ancora più sfruttabile dai sedili posteriori scorrevoli. Ignis è dotata del motore 1.2 Dual Jet a iniezione indiretta di benzina, il cui cuore è l'Integrated Starter Generator, costituito da un alternatore che riunisce le funzioni di tre componenti, motore elettrico, alternatore e motorino di avviamento, fornendo un surplus di potenze in accelerazione e in ripresa. Questo sistema produce energia durante la frenata, accumulandola in una batteria agli ioni di litio da 12 Volt. Il sistema 4WD All Grip Auto di Ignis adotta un giunto viscoso per la gestione della ripartizione delle trazioni tra gli assi anteriori e posteriori.